Buonasera, bentornati ad Economia24. In primo piano il faro puntato di Bruxelles sull'Italia servono politiche responsabili e attesa per le raccomandazioni di domani della Commissione. E l'Istat intanto conferma per il 2018 le stime del fila di 1,4%, ma il caro petrolio il rallentamento dell'economia globale mettono a rischio la crescita. E ancora al via il forum della pubblica amministrazione dal 2009. I costi della PIA in Italia sono scesi di 10 miliardi per i effetti della riforma Madia contro l'assentente. Ed infine aperto a Roma il festival italiano dello sviluppo sostenibile agenda 2030 sia la bussola per il nuovo governo chiede il portavoce Enrico Giovannini. Vari eventi al via a Roma oggi. Partiamo dal forum PA 2018. Il lavoro dei dipendenti pubblici si stima costa ad ogni italiano 2.632 euro, meno sia rispetto alla Francia che alla Germania. Invece per le assenze per malattia si registrano i primi cali dopo anni di crescita. Vediamo con Celia Ghimaraes. Bisogna affrontare le sfide del futuro con una pubblica amministrazione a passo con i tempi e per farlo un possibile modello governare con la rete come posto da Stephen Goldsmith, vice sindaco di New York nella Blumberg, massimo esperto in materia e ospite d'onore del forum PA. Parliamo di come i nuovi strumenti tecnologici possono aprire una nuova era di rivoluzione da parte della pubblica amministrazione e di come possono collaborare meglio, come si possono usare i dati per risolvere i problemi prima che accadano, come possano portare ad agire più velocemente. Abbiamo una rivoluzione tecnologica in corso. Nata 29 anni fa come vetrina della pubblica amministrazione, oggi il forum PA è ben altro, è un luogo di incontro, di network, un luogo dove si viene ad imparare la digitalizzazione. L'Italia deve fare di più per la pubblica amministrazione rinnovata e aperta alla trasformazione digitale. Va reso efficiente un servizio che costa a ciascun italiano 2.632 euro l'anno. L'innovazione digitale è molto importante. È chiaro che se il costo dell'innovazione digitale è licenziare tutti i dipendenti pubblici o peggio, non supportare i dipendenti pubblici con formazione, con formazione continua per rendere utile e possibile l'utilizzo di questa innovazione, è chiaro che l'innovazione non si produce mai. Dalla riforma dell'APA comunque arrivano buoni segnali. Per esempio la cosiddetta linea dura ha ridotto del 10% l'assenteismo. Per eliminare l'assenteismo la cosa più importante è quella di creare un posto di lavoro che dia a chi ci lavora la soddisfazione di fare qualcosa di veramente utile. La pubblica amministrazione italiana resta anziana, sono 3.200.000 dipendenti pubblici dall'età media di 50 anni, spesso poco qualificati e ben 314.000 i precari.